Eccomi, ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì, ho i capelli da pazza come al solito. Veniamo invece a quello che volevo farvi vedere oggi. Mi avete chiesto in tantissimi come un po' di tecnica di base, quindi come ciao Marisa, come fasciare, come ricoprire le torte in pasta di zucchero. Tempo fa avevamo pubblicato sul nostro canale YouTube Bimagenta una diretta in cui vi parlavo di quelle che sono le basi, le farciture e le stuccature. Quindi rimando alla diretta che abbiamo pubblicato. Vi metterò nei commenti per Facebook e nella descrizione per YouTube il link diretto per andare a vedere il vostro, per andare a vedere appunto il video, scusatemi. Innanzitutto la pasta di zucchero che dovete utilizzare. Le paste di zucchero per copertura, dal mio punto di vista ovviamente è un mio parere, non devono essere né troppo secche né troppo grasse. Perché? Perché se sono troppo secche il rischio è che quando poi andiamo ad adagiarle sulla torta vadano a screpolarsi lungo gli angoli. Spesso mi capita di leggere commenti per mi essere screpolata la pasta, mi si è rotta, come mai? Innanzitutto se si rompe è perché non la state facendo aderire sufficientemente bene. Quindi cosa succede? Il peso della pasta di zucchero, che ovviamente risente anch'esso della forza di gravità, porta la pasta di zucchero verso il basso e quindi si va proprio a spezzare. Sul fatto che screpoli è perché non è abbastanza elastica, è una pasta troppo secca. Infatti spessissimo mi chiedete se le nostre paste, la nostra supermodo, l'extrememodo possono essere utilizzate anche per copertura e io vi dico sempre di no. Perché? Perché sono paste che tendono a seccare molto velocemente e quindi il rischio appunto è che nel mentre voi manipolate e lavorate per fasciare la torta vi si vadano a creare tutte le crepe sugli angoli. Quello che io invece ad esempio spesso faccio è mischiare la supermod con paste invece più morbide, soprattutto d'estate dico la verità perché la super comunque ha un'ottima resistenza al caldo e quindi questa cosa mi facilita. Perché invece non usare le paste grasse? Io sconsiglio, ma è un mio parere ovviamente personale, di utilizzare paste eccessivamente grasse per la copertura perché poi queste paste vanno a risentire dello shock termico dentro frigo, fuori frigo, soprattutto adesso che arriva la stagione calda. Quindi che cosa succede? Voi coprite, mettete in frigorifero, quando la pasta fuoriesce dal frigo ha ovviamente uno shock termico perché magari si trova a temperature molto basse e passa a temperature alte, ripeto, arrivando l'estate anche temperature magari di 30-35 gradi e il grasso contenuto all'interno della pasta di zucchero fuoriesce, la pasta trassuda, la pasta addirittura in alcuni casi gocciola se non addirittura si scioglie e quindi che cosa succede? Succede che poi c'è un passaggio di umidità tra la farcitura interna, la stuccatura soprattutto se magari ci sono stati dei piccoli errori appunto di stuccatura e la pasta di zucchero. Si crea un circolo vizioso e come a volte mi capita purtroppo di leggere su Facebook il commento, ah mi si sta sciogliendo la pasta di zucchero, che cosa devo fare? Rimando al discorso delle stuccature e farce che vi avevo appunto di cui vi parlavo prima perché in quel video vi spiegavo molto bene il discorso di quale crema io vi consigliavo di utilizzare per la stuccatura di una torta. Ciao Paola, ciao Samantha, un bacione. Quindi dicevamo paste di zucchero che non siano né eccessivamente secche né eccessivamente grasse, questo ovviamente esclude dal discorso tutte le gun paste e le paste grasse da modeling. Va bene? A patto che, ripeto, voi non le utilizzate in mix con altre paste per sfruttarne alcune caratteristiche ma attenuarne determinati, mi venne da chiamarli difetti, in realtà non sono difetti, sono semplicemente delle caratteristiche che vanno bene per il modeling ma non per la copertura. Apro una piccola parentesi, pasta di zucchero fatta in casa. Sicuramente per quel che riguarda la copertura non disdegno una pasta di zucchero fatta in casa e ve lo dico da venditrice di pasta di zucchero, nel senso che la pasta di zucchero fatta in casa non la consiglio mai per il modeling, sono onesta, ma se uno vuole utilizzarlo per fasciare le torte si può sicuramente utilizzare. Fermo restando che sapete perfettamente che cosa ci mettete dentro e quindi sicuramente può essere sotto certi aspetti tra virgolette più salutare. C'è da dire che le paste di zucchero fatte in casa spesso risultano molto secche, sono quelle che poi vanno a crepare, quindi dovete anche lì stare un attimino attenti alla base di aggiungere una base grassa senza però esagerare, ok? Quindi mi raccomando. Ripeto, io non disdegno, soprattutto se fate poche torte, capisco che magari comprarsi dei mastelli da 5 kg di pasta di zucchero può non essere economicamente conveniente e quindi perché no? Fatela tranquillamente in casa la pasta di zucchero da copertura, ok? Poi ce ne sono tantissime, veramente molto 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 buone, che invece si possono utilizzare. Io personalmente vi sto consigliando ultimamente la nostra flash mode perché oltre a essere una buona pasta da modeling per chi ha mani fredde, è sicuramente una validissima pasta da copertura, soprattutto adesso che arriva la stagione calda. Ciao! Eccoci, quindi io spero che vi sia tornato utile, era una cosa che mi avevate chiesto da tanto tempo, non ero mai riuscita a organizzarmi per farvelo vedere, quindi approfittatene. Ragazzi baci baci, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao!